Quello che vedete è Joe Wright, un'istituzione del cinema, regista da Oscar e di fama internazionale. Lo si capisce citando alcuni dei suoi film più celebri come Espiazione, vincitore nel 2008 di una statuetta, Orgoglio e Pregiudizio e Anna Karenina. È quell'ora più buia che presentò ai cineasti un Winston Churchill magistrale interpretato da un irriconoscibile Gary Oldman che portò nel 2018 ben due Oscar. Bene, Wright ha un nuovo progetto e insieme ai suoi collaboratori ha già svolto alcuni sopralluoghi nella città di Noto, ha individuato tra i palazzi e le vie del centro storico le location ideali per ambientare il suo prossimo lavoro. Un film su Cyrano de Bergerac, che sarà il primo musical del regista inglese. Nel cast le star Peter Dinklage, Halley Bennett, Brian Triri Henry e Ben Mendelsohn e proprio su una pista teatrale della moglie di Dinklage, Erika Schmidt, si ispirerà a Wright. Cyrano de Bergerac, un uomo di grandi qualità dotato però di un enorme naso che consapevole del suo aspetto convincerà un giovane di bell'aspetto a corteggiare la donna dei suoi sogni al suo posto. Le riprese partiranno ad ottobre e saranno anticipate a settembre da una conferenza stampa a cui parteciperà il regista insieme ai produttori. La Noto del Cinema, commenta il sindaco Corrado Bonfanti, è ricca di pellicole di grande successo entrate nella storia della cinematografia internazionale con attori, attrici, protagonisti e registi indimenticabili. Con John Wright, dice, siamo sicuri che contribuiremo ad arricchire il già prestigioso elenco di film girati a Noto, facendo vivere alla nostra comunità giorni indimenticabili. Verrà il giorno, come fatto per il passato, che si commenterà quella scena o quell'attore con l'emozione del ricordo ancora viva e l'orgoglio di affermare io c'ero.